ciao a tutti oggi andiamo a guardare come funziona sitades o almeno ci provo così che magari anche l'esimio maestro daniele riesce a giocarlo allora intanto vi dico quello che c'è dentro la scatola allora ci sono le carte personaggio retro blu e le carte luogo retro rosso le carte personaggi ce ne sono otto base assassino ladro mago e vescovo mercante architetto e condottiero nella scatola ci sono altre dieci con una stellina qua che per adesso non usiamo magari uno proprio se ci gioca tantissimo vuole cambiare un po usa queste carte il regolamento spiega come vanno sostituite ma per adesso fuori dalle scatole allora le carte luogo invece hanno dei colori indicati qua sotto ce ne sono un sacco allora i colori sono giallo rosso verde blu che ci serviranno per alcuni dei personaggi quelli con questi colori e semplicemente daranno una rendita in più poi ci sono le carte viola che solitamente ci hanno un potere scritto qua sotto e in base a quello che c'è scritto fanno azioni allora cosa da tenere sempre a mente per sempre in mente per i luoghi quando li andiamo a costruire non potremo mai averne due identici davanti a noi quindi per esempio già fatto un palazzo non potrà costruire l'altro palazzo anche se ce l'ho in mano poi ci avrei magari soldi per costruirlo quindi questa regola base allora stessa cosa dei personaggi anche per i luoghi nella scatola ci sono dei luoghi sono tutti quanti viola mi sembra con una stellina qua sopra questi qui si possono aggiungere le partite dopo un pochino di tempo che ci giochiamo per dare un po di variabilità ma per adesso anche questi qua li togliamo dalle scatole cosa finisce la nostra dotazione le alpen libe che sono le monete di gioco insomma loro poi il segnalino del primo giocatore tipo con la corona e il fogliettino insomma che ci spiega il nostro turno di gioco e il punteggio finale e questi saranno nostri amici l'inizio della partita è uguale per qualunque sia il numero di giocatori al tavolo il gioco va da 27 giocatori e cambiano un pochino di cose nel mentre comunque le cose che dovremmo fare sono mischiare il mazzo con tutti quanti i luoghi mannaggia al riflesso poi mischiamo allo stesso modo il mazzo con gli otto personaggi base che abbiamo detto prima e allora ogni giocatore riceverà quattro carte dal mazzo dei luoghi e le metterà coperte in mano dopodiché ogni giocatore avrà anche due monetine dalla banca e questa qua è la nostra dotazione iniziale inoltre il giocatore più vecchio comunque chi ci pare si becca il segnalino primo giocatore e suo sarà il compito di chiamare poi i personaggi durante il round della partita allora tanto chiamiamoli turni perché così almeno non facciamo casino con regolamento dicevamo citadels dura un numero variabile di turni quindi non è detto che duri che ne so 20 turni 30 turni dipende da come giocano i giocatori quando finisce la partita intanto la partita finirà quando un giocatore avrà costruito davanti a sé 8 carte luogo a quel punto quando un giocatore costisce l'ottava carta luogo davanti a sé sono belle disordinate a quel punto la partita sarà finita e si farà il conteggio dei punti non è detto assolutamente che chi chiude la partita avrà vinto perché bisognerà guardare chi ha fatto più punti vittoria ma poi questo ce lo vediamo a fine partita che ci sono altre cosine che insomma fanno fare punti dicevamo dotazione iniziale quattro carte due soldini questo primo giocatore dopodiché ci sono vari round che seguono tutti quanti lo stesso funzionamento ovvero vengono dati i personaggi si sceglieranno i personaggi giocatore sceglierà un personaggio o due personaggi se giochiamo in due tre giocatori una volta insomma scelto il personaggio gira 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 verrà fatto il turno vero proprio di gioco allora lo troviamo scritto qua praticamente chi ha la corona chiamerà i personaggi dall'uno all'otto praticamente e a quel punto giochiamo uno l'assassino chi ha l'assassino farà la sua azione e sono le cose scritte qua praticamente all'inizio del tuo turno o prendi due soldini oppure praticamente prendi due carte dal mazzo qua dei luoghi mazzo quartieri ne scegli uno l'altro lo mette in fondo poi se vuoi costruisci un luogo una carta quartiere ovvero pago alla banca le monete d'oro indicate qua dalla mia riserva e metto il luogo davanti a me e dopodiché se voglio posso utilizzare anzi non dopodiché e nel corso del mio turno prima o dopo aver effettuato l'azione posso usare l'abilità del mio personaggio perché ogni personaggio ha una sua abilità speciale adesso andiamo un attimo a guardare come funziona da due a sette giocatori la fase di distribuzione dei personaggi e poi poi vediamo anche i vari i vari personaggi insomma comunque tutti sono sempre questi qua vengono distribuiti i personaggi vengono scelti tramite un draft dopodiché scelto il personaggio vengono chiamati personaggi da 1 a 8 da chi ha il segnalino davanti a sé una volta che tutti quanti i personaggi hanno fatto le loro azioni se possono vengono riconsegnati tutti i personaggi da parte dai giocatori si rimischiano e inizia un nuovo round avanti così fino a quando un giocatore non ha 8 carte davanti a sé stop questo è il gioco andiamo adesso a vedere come vengono date le carte le carte dei personaggi a seconda di quanti sono i giocatori al tavolo quindi siamo all'inizio del primo round di gioco per esempio di una partita due giocatori questo è il primo giocatore che ha la coroncina cosa fa mischiate le carte e questo si farà tutti i turni a una se ne mette al centro senza guardarla dopodiché il primo giocatore sceglie una delle carte e se la mette davanti a sé coperta passa le carte al secondo giocatore che al tempo stesso guarderà le carte ne sceglie una per sé se la mette coperta davanti a sé e le altre carte ne sceglierà una da mettere al centro quindi ripassa le carte del primo giocatore che ne avrà quattro tra cui scegliere ne sceglierà una che prenderà per sé e un'altra che mette al centro ripassa le due carte sempre coperte all'altro giocatore che ne sceglierà una per sé e ne metterà un'altra coperta al centro quindi ogni giocatore avrà due carte davanti a sé e ce ne saranno quattro coperte al centro del tavolo questo il gioco in due giocatori in tre giocatori invece avremo sempre due carte a testa verranno quindi dal giocatore che ha la corona mischiate le carte ne metterà una coperta al centro del tavolo sceglie una carta e la mette coperta passa qua sceglierà una carta la prende coperta terzo giocatore sceglierà una carta la mette coperta praticamente tutti i giocatori arriveranno ad avere due personaggi l'ultimo giocatore avrà da scegliere tra due carte una la sceglierà per sé e un'altra invece la metterà coperta al centro del tavolo quindi due carte per giocatore e due coperte al centro del tavolo adesso andiamo a vedere invece come funziona per la configurazione classica dai quattro ai sette giocatori allora per prima cosa il giocatore con la corona prende a caso una delle carte e la mette coperta sul tavolo ok dopo di che in base a quanti giocatori ci sono al tavolo ci saranno anche delle carte scoperte che non verranno utilizzate ma tutti i giocatori sapranno che non sono in gioco in quattro giocatori ne metteremo due scoperte in cinque giocatori ne metteremo soltanto una scoperta mentre in 67 giocatori non avremo nessuna carta scoperta dopodiché messa la carta coperta e le eventuali carte scoperte si parte dal primo giocatore a scegliere la carta che avrà come ruolo in quel turno quindi io primo giocatore ciego per esempio il ladro passo le mie carte al secondo giocatore che sceglierà la sua carta passerà le rimanenti cinque carte all'altro giocatore e via dicendo considerate che le carte finiranno praticamente una partita a quattro giocatori ne avremo due qua così avremo dato carta primo giocatore avrà scelto secondo avrà scelto il terzo avrà scelto il quarto avrà due carte tra cui scegliere ne sceglierà una per sé e la rimanente verrà messa coperta al centro del tavolo quindi tutte le carte verranno sempre comunque assegnate e messe coperte o scoperte al centro del tavolo l'ultima particolarità è quella in sette giocatori perché abbiamo detto in sette giocatori non avremo nessuna carta scoperta sul tavolo quindi il primo giocatore abbiamo detto mischia le carte mette la carta coperta tra le carte ne sceglie una per sé quindi primo giocatore secondo terzo quarto quinto sesto il settimo resta con una sola carta cosa fa il settimo giocatore settimo giocatore soltanto lui potrà guardare la carta che era rimasta coperta inizio partita sceglierà tra le due carte quale usare e l'altra la rimetterà coperta al centro del tavolo fatta questa cosa all'inizio di ogni turno si incomincia a giocare e sarà il giocatore con la corona a chiamare i personaggi dal loro numero dall'uno all'otto adesso vediamo cosa fanno i personaggi uno per uno bene e adesso andiamo a guardare cosa fanno i vari personaggi allora abbiamo detto tutti quanti hanno avuto un ruolo o due se siamo in due tre giocatori quindi il giocatore con il primo col simbolino da primo giocatore con la corona inizia da chiamare i vari personaggi con i numeri che hanno sopra dall'uno all'otto quindi andrò a chiamare uno l'assassino se un giocatore all'assassino a meno che non sia tra le carte coperte o quelle scoperte inizia da fare il suo turno quindi ricordo nel proprio turno c'è l'abilità del personaggio che si può usare quando si vuole inizio o fine turno insomma cosa obbligatoria da fare è l'azione o prendi due soldi oppure peschi due carte una tieni una la metti in fondo e facoltativamente all'interno del tuo turno sempre puoi costruire una carta quartiere quindi dopo aver fatto l'azione se vuoi costruisci e hai sempre la possibilità di usare l'abilità del personaggio la carta questa c'è una parte ci servirà sempre cosa fa l'assassino l'assassino dice il nome di un altro personaggio chi ha quel personaggio al tavolo salterà il proprio turno se per esempio il turno dell'assassino ce l'ho io e dico io voglio uccidere il ladro se un giocatore al tavolo ha il ladro sta zitto non deve mai dire niente chi viene assassinato sta zitto perché ovviamente è morto e salterà il suo turno quindi quando il giocatore con la corona chiamerà il ladro chi ha quella carta sta zitto soltanto alla fine del turno quando tutti quanti vanno giocato chi ha il ladro farà vedere magari la sua carta offenderà l'assassino e si passerà al turno successivo quindi questo è il potere del assassino poi il ladro il ladro dice il nome di un personaggio e potrà prendere l'oro di quel personaggio ovviamente una volta che quel personaggio verrà chiamato per esempio io ladro voglio derubare il mago e finisce il ladro dichiara che vuole derubare il mago poi come sua azione per esempio prende due monete e passa il turno il giocatore con la corona a questo punto chiama il mago e il mago si rivela e appena si rivela da tutti i suoi soldi al ladro attenzione però il ladro non può derubare l'assassino perché gioca prima di lui e se per esempio il ladro dichiara di derubare un personaggio che è stato ammazzato dal dall'assassino beh non lo può fare insomma il ladro può semplicemente derubare tutti quanti a parte l'assassino e che viene ammazzato dall'assassino ok scusate il lapsus dunque il mago il mago ha come potere quello di scambiare le carte che ha in mano con le carte che ha in mano un altro giocatore qual è la cosa simpatica che per esempio può scartare cioè può passare le sue zero carte a un giocatore che ne ha cinque e se le becca tutte quante oppure può decidere di cambiare le carte che ha in mano quindi ne scarta quante ne vuole e ne pesca altrettante questo se magari avete carte uguali a quelle che già avete o quant'altro vi permette di fare un po di movimento con le carte quartiere in mano il re dicevamo il re ha il potere di guadagnare soldi in base ai luoghi che ha costruito del colore giallo adesso senza che li vada prende per fare esempi comunque può attivare questo potere volendo anche dopo aver costruito quindi all'inizio del mio turno per esempio prendo le due monete con le monete compro un quartiere giallo che metto davanti a me dopo di che attivo il potere del re per cui prendo la moneta d'oro anche per il quartiere giallo che ho appena costruito quando il re viene chiamato il re si becca la corona e quindi sarà d'ora in poi lui a chiamare i giocatori i personaggi insomma questo è quanto farà il vescovo il vescovo prende monete per i quartieri blu che ha costruito nella sua città e è difeso dal condottiero che la carta numero 8 che vedremo dopo è una carta molto cattiva che fa distruggere quartiere gli avversari il vescovo è in combutta col condottiero e quindi non potrà essere bersaglio delle sue malefatte il mercante il mercante riceve soldi per ogni quartiere verde che ha costruito davanti a sé e dopo aver fatto un'azione riceve un'ulteriore moneta d'oro quali sono le azioni o prendi l'oro o mescoli le carte quindi il mercante prende o tre monete d'oro dalla banca oppure pesca le due carte ne scartano eccetera e prende una moneta d'oro quindi fate bei soldini l'architetto allora l'architetto dopo aver fatto un'azione quindi le due che abbiamo appena detto pesca due carte quartieri e se le mette in mano perché figa sta facendo qua perché se avete tanti soldi oltre aver fatto questa cosa quindi potreste avere due soldi aggiuntivi e due carte oppure aver preso tre carte ne potete costruire fino a tre altrimenti il limite di costruire soltanto una l'ultima carta che andiamo a vedere è il condottiero quindi lui prenderà una moneta d'oro per ciascun quartiere rosso costruito nella sua città dopodiché può pagare per distruggere un quartiere a sua scelta ovvero il condottiero per esempio a dall'altra parte il giocatore con l'architetto qua c'abbiamo l'architetto che ha costruito faticosamente nel ram precedenti l'osservatorio che costa cinque monete d'oro il condottiero bastardo paga quattro monete d'oro ovvero il costo della carta avversaria che vuol distruggere meno uno paga queste monete alla banca e la carta dell'avversario viene distrutta questo perché lo facciamo perché magari quella carta ha un potere particolare che favorisce troppo l'avversario oppure perché l'avversario si sta avvicinando alle otto carte costruite noi non vogliamo che la partita finisca condottiero è la soluzione alle cose condottiero veramente molto forti bisogna avere soldi per attivare il suo potere e non sempre magari distruggere carta avversarie è vantaggioso forse a volte ci conviene costruire questo ovviamente l'ha visto di partita in partita il bello di questo gioco è anche questo allora abbiamo visto tutti quanti i vari personaggi il gioco è tutto qua faccio un piccolo riassunto finale per cui ricordiamoci come funzionano i vari turni allora vengono mischiate le carte chi è la corona inizia e scegli la carta davanti a sé ecco perché è forte perché scegli per primo le carte e ha più scelta quindi metti le carta al mezzo scoperta eventuali carte mettevelo dire la carta coperta eventuali carte scoperte scegli la carta per te passi tutti quanti scelgono una volta fatto chi ha la corona chiama i personaggi dall'uno all'otto si attivano tutti quanti i personaggi davanti ai giocatori i giocatori fanno il loro turno prendono monete costruiscono le carte quartiere eccetera eccetera quando finisce il gioco quando arriviamo che un giocatore ha davanti a sé 8 carte luogo costruite allora arrivati a quel punto della partita finisce praticamente il turno in corso e si fa il punteggio quindi quanti punti prendono i giocatori allora guardano tutte le carte che hanno costruito davanti a loro e quindi fanno tanti punti quanti sono le monete d'oro pagate per costruire i luoghi poi se un giocatore ha almeno un quartiere per colore quindi giallo rosso blu verde e viola tre punti aggiuntivi il primo giocatore che costruisce gli otto quartieri riceve quattro punti e altri che eventualmente nel corso dello stesso turno hanno costruito gli otto quartieri fanno due punti a questo punto chi ha il totale più alto ha vinto e sarà il super mega campionissimo di citadel spero che ci abbiate capito qualcosa buon gioco